sì ciao a tutti amici di studio camorrina come ho detto alle mie spalle mi trovo all'aeroporto di torino sono qui da una ventina di minuti ho preso questo volo in quanto devo per forza scendere in sicilia nel mio laboratorio per delle commissioni da clienti e per delle novità che a breve vi racconterò oggi è giovedì quindi stasera atterrerò a palermo domenica sera sarò di nuovo a torino e poi andrò a scuola a forno canavese come vi dicevo ho ricevuto un passaggio da una mia collega e mi ha lasciato qui per poter prendere l'aereo stasera alle ore 10 dove appunto alle ore 23 30 sarò a palermo una settimana mozzafiato una settimana ricca di emozioni di eventi ho preso casa a forno canavese ho accettato l'incarico come prof della durata di un anno quindi dopo questi due giorni in sicilia che rascorrerò creerò con me stesso dopo anni e anni e anni di coraggiose battaglie per far riconoscere il posto moderno in Italia mi ritirerò in un specie di ritiro spirituale con me stesso in messo nella natura nella pace per cercare i veri valori di questo mondo che mi sta deludendo sempre di più mi fa male sempre di più sentire le notizie mentali gli episodi che accadono in questa veramente smarrita società ragazzi lo prendo come un memorial un saluto da Studio Camurrina un saluto dall'aeroporto di Torino un bacio a tutti